buongiorno amici e bentornati al canale oggi piccola recensione di questo dispositivo che come vedete non è altro che una radio una degen di e13 e una radio di chiamiamola emergenza in quanto supporta diverse tipi di alimentazione abbiamo quindi il pannellino solare che alimenta appunto il circuito la batteria interna che è composta da tre batterie come vedete nickel metal idrato da 3,6 volts chiaramente la classica antenna e poi abbiamo la funzione torcia sirena e ovviamente radio su quest'altro lato abbiamo la presa usb la presa mini usb per l'alimentazione è una presa jack audio chiaramente questo è il tuning per le stazioni e qui possiamo selezionare appunto le varie bande della radio e questa è la manopola volume qui invece possiamo selezionare il tipo di alimentazione in questo caso alimentazione a batteria in questo caso qua è spenta così allora pardon scusate perché le icone sono un po piccoline allora in questo caso alimentazione a batteria così alimentazione tramite il pannello solare spenta in questo angolino qua invece possiamo utilizzare il la radio come alimentatore per caricare un dispositivo elettronico qua sopra invece abbiamo le funzioni quindi in questo caso torcia ecco dimenticavo qui c'è una una dinamo in questo caso vedete senza batterie abbiamo una dinamo abbiamo in questo caso off è spenta qui abbiamo invece la funzione radio non si sente e qui la sirena una sorta di ovviamente adesso con la dinamo fa questo suono ma con la con la batteria fa proprio un suono bello forte è una sirena di emergenza quindi una radio tutto sommato carina per chi deve acquistare appunto una radio direi che il prodotto ne vale piuttosto di comprare una radio tradizionale alimentata solo a batterie diciamo che ne vale la spesa è anche piuttosto irrisoria come sempre sotto in descrizione vi metterò il link della radio in questione oppure il modello successivo se nel frattempo è uscito un altro la qualità comunque audio è pressoché discreta ovviamente è una radio portatile non è che si può pretendere più di tanto bene questo è tutto grazie per la visione alla prossima ciao ciao ciao